Situazione meteo di oggi, giovedì 31 gennaio sulla Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo nubi basse sul Messinese. Temperature in ulteriore aumento con valori decisamente superiori alle medie climatiche del periodo. Domani, primo febbraio, ancora una giornata di bel tempo. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e sottile tra il tardo pomeriggio e la sera a partire da ovest ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, venti deboli nord-occidentali, mari poco mosso lo ionio, mossi gli altri bacini.